I suoi genitori erano a Nizza in vacanza oppure vivevano là? No, no, erano in vacanza. Erano in vacanza da quanti giorni erano là? Erano partiti, mi sembra, martedì. Ok, e avete avuto le ultime informazioni quindi ieri sera? Ieri sera, sì. E vi hanno proprio detto espressamente che sarebbero andati... Stavano scendendo verso la Tomea de Zanglè. Ho capito. La Farnesina vi ha già dato delle informazioni oppure non avete ancora saputo nulla? Mi hanno chiamato una mezzoletta fa per sapere se eravamo riusciti a ricontattarli ma avevano detto di no naturalmente perché non si è riuscita a contattare nessuno. Quindi voi state provando a contattarli telefonicamente ancora adesso e non avete risposte? No, no, soprattutto tutta la notte, ieri sera, tutta la notte e anche tutta stamattina. Avete avuto modo di contattare magari gli ospedali della zona per sapere qualcosa? No, non abbiamo avuto modo, non riusciamo. Grazie a tutti.